Lo sconcerto, ho visto lo sconcerto in tutti, perché tra l'altro io sono membro del gruppo misto perché sono stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. Sono una persona che gode comunque generalmente della stima dei miei colleghi dentro tutti gli schieramenti politici. Sono sempre stata aperta al confronto, sono stata in diverse commissioni e sono sempre stata portatrice di un mio contributo. E' chiaro che gli argomenti che sono stati sollevati in aula hanno spaziato a 360 gradi su critiche di ogni tipo. Quel che dispiace è che rimanendo nel merito la scuola non venga ascoltata nei suoi contenuti più profondi e più seri.